Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 4 agosto. Non accennano a diminuire le quotazioni dell'olio extravergine di oliva, ormai superiori in 9 euro chilo, come riportato in tabella. Decisamente lontane di più di 4 euro chilo dalle quotazioni dello scorso anno. Per quanto riguarda le quotazioni degli oli a denominazione DOP e IGP, si sono avuti solo aumenti di adeguamento all'olio extravergine di oliva convenzionale, pressoché invariati invece nelle quotazioni più elevate. Per fare degli esempi, mentre per alcune DOP come la Dauno, Terra di Bari, Valli Trapanesi, i valori sono quasi raddoppiati, passando da 5,40 euro a 5,60 euro chilo dello scorso anno ai 10,40 euro a 10,60 euro di quest'anno stesso periodo, per altre DOP con scarsa disponibilità e domanda sostenuta come la brisighella o l'olio veneto DOP, i valori sono invariati e praticamente allineati, stabilizzandosi rispettivamente a 23 euro e 24,50 euro chilo. Il problema che si pone ora è di capire quanto saranno le quotazioni della nuova produzione. Infatti, valori più elevati potrebbero determinare una riduzione importante delle vendite, di contro valori più bassi non sarebbero sostenibili. Sono state rivolte domande a imprenditori del settore olivicolo e oleario sulle concause che hanno generato l'aumento dei prezzi. Il quadro è interessante. Per il 56% concorrono le difficoltà climatiche di questi ultimi anni, la siccità per il 35%, il cambiamento climatico per il 21%, per il 10% le difficoltà agronomiche e fisiologiche che subisce la pianta d'olivo come conseguenza dell'andamento climatico, impossibilità di irrigazione per il 6%, minore performance vegetativa della pianta d'olivo per il 4%. Per il restante 34% concorrono le difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi. Il 31% rialzo dei costi di produzione e commerciali, 3% rialzo dei tassi di interesse sui finanziamenti. Mercati esteri pressoché fermi, contrassegnati sia dal calo dei consumi sia dalla ridotta disponibilità di olio. Qualche leggero rialzo per Portogallo, Turchia ed Egitto. Ringraziandovi per la vostra viva attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Milano Europea e dell'Italiaム